Grazie alle 16 persone che mi hanno votato, 16 persone, 20.000 visualizzazioni su internet, 850 messaggi per le mie idee, per i miei programmi e per tutto l'impegno che volevo mettere. E poi si votano persone che per 5 anni non hanno detto una parola al Consiglio Comunale. Allora mi dispiace Alghiero, io ritorno alla mia arte, buon lavoro, hai manifesti attaccati ai muri. Io mi chiedo, dopo aver fatto la campagna elettorale, con coraggio, aver affrontato un sindaco con coraggio, aver portato le mie idee con coraggio, aver proposto per Alghiero diverse soluzioni per che Alghiero cresca, io prendo 16 voti, neanche i voti del mio condominio. E poi incontro gente, io ti ho votato, io ti ho votato. A chi hai votato? Hai votato agli amici tuoi o a quelli che ti hanno promesso un posto di lavoro o ti hanno promesso chissà che cosa? Non funziona così. La democrazia non funziona così. Però io accetto, io sono un democratico. Ma 16 voti non li digerisco. Uno come me che ha fatto la storia di questa città. Vent'anni ho offerto il mio presepe del mare. Per tutto il resto della mia vita ho portato Alghiero in tutto il mondo. Ho sempre difeso Alghiero. Ho sempre difeso i miei cittadini. Bene, se il risultato sono 16 voti, cari cittadini di Alghiero, mi dispiace, ma io tempo da perdere non ne ho, io ritorno alla mia arte.